Ti è mai capitato di sentirti bloccato o bloccata mentre disegni? Oppure di notare che qualcosa nel tuo lavoro proprio non va, però non riesci a capire che cosa? Parliamoci chiaro, in arte, in teoria, non ci sono errori, nel senso che tu potresti prendere un asparago, per esempio, e disegnare e fare quello che vuoi, e sarebbe bello lo stesso. Quindi invece di chiamarlo errore, chiamiamolo problema, o come vuoi tu. Quindi oggi ti mostrerò sette problemi che sono molto comuni, con cui tutti veramente hanno a che fare, anche i disegnatori professionisti, e poi ti spiegherò come li puoi risolvere. Se correggi questi piccoli dettagli, vedrai dei miglioramenti incredibili nei tuoi disegni. Benvenuti sul canale, sono Daila Di Rienzo, disegnatrice incallita. Il disegno ha avuto un impatto profondo nella mia vita e desidero condividere con voi questa passione e soprattutto i benefici che il disegno ha per voi. Non usare linee troppo dure. Il problema numero uno è dunque quando usiamo le linee troppo dure. Cosa vuol dire? Spesso ci concentriamo troppo sull'essere precisi e si preme troppo con la matita sul foglio. Questo rende il disegno rigido e soprattutto difficile da correggere. Infatti più calchi con la matita sul foglio e più poi è difficile cancellare con la matita quella linea. Invece perché non provi iniziando con linee più morbide, più leggere, quasi invisibili? Questo ti permetterà di fare correzioni poi senza difficoltà e rende il tuo disegno più fluido. Non disegnare i tuoi bozzetti così. Questa tecnica non funziona. È molto molto meglio disegnare delle vere linee invece che disegnare così. Non so come chiamarlo. Forse linee tremolanti? Tratteggio pazzo. Fatemi sapere se vi viene in mente un nome migliore nei commenti per questa... Tecnica strana. Questo modo di disegnare inoltre mi fa capire che c'è insicurezza al momento di fare il tuo bozzetto, il tuo schizzo, perché non sai esattamente dove andrà a finire quella linea e quindi non riesci a capire bene cosa stai disegnando. Per questo è importantissimo iniziare dalle basi nel disegno. Disegnando tantissime linee e forme prima di iniziare a creare soggetti più complessi come per esempio un'auto, un volto e via dicendo. Non dico che sia semplice, ci sarà sempre da allenarsi, però ti prometto che la tua tecnica migliorerà molto una volta che ti sarai liberato di questa brutta abitudine di tratteggiare. Non dimenticare le proporzioni. Spesso ci dimentichiamo le proporzioni nei nostri disegni e questo è uno degli errori più comuni. Può rovinare però anche il disegno più dettagliato. Quindi prenditi sempre qualche minuto per controllare le proporzioni dei tuoi disegni. Puoi usare per esempio delle griglie, puoi misurare con il tuo righello, oppure puoi usare il metodo della matita. L'importante è che tu ti assicuri che sia tutto in equilibrio. Non sottovalutate l'importanza degli schizzi. Molti pensano che il disegno finale sia l'unica cosa che conta, ma gli schizzi sono fondamentali, specialmente se vuoi sviluppare migliori idee e migliorare la tua tecnica. Dedica dunque un momento del tuo tempo dedicato esclusivamente a fare schizzi veloci e liberi. Questo ti aiuterà non solo a sciogliere la tua mano, ma anche a trovare soluzioni più creative per le tue creazioni artistiche. Non trascurare le ombre. Le ombre sono ciò che dà profondità e realismo ai nostri disegni. Quindi non limitarti a scurire casualmente alcune aree. Prenditi il tempo quindi di osservare la fonte di luce e capire l'effetto che ha sulle tue forme. Le ombre possono veramente trasformare un disegno piatto in un disegno che quasi esce dal foglio. Non copiare senza capire. Copiare può essere un ottimo esercizio per allenarsi. Io stessa, quando ero un adolescente, ho passato tantissimo tempo copiando i miei cartoni preferiti. Sailor Moon, Dragon Ball, Ranma, tu dimmene uno e io l'ho copiato. Credo che copiare sia un rito di passaggio per ogni disegnatore, ma se lo fai senza comprendere quello che stai disegnando, non stai migliorando realmente. Quindi invece di limitarti a replicare quello che stai disegnando, cerca di analizzare cosa stai copiando, le forme, le proporzioni, le tecniche che sono state utilizzate. Così facendo imparerai molto di più e potrai applicare queste conoscenze ai tuoi disegni originali. Questo è un ultimo consiglio dato da me, da una persona che fa impaziente di secondo nome. La fretta rovina il risultato finale e sai perché? Perché quando siamo mossi o motivati solo dall'obiettivo finale, cioè come sarà il nostro disegno alla fine quando avrò finito, ci perdiamo tutti i dettagli del nostro viaggio. E i dettagli sono importanti, sono forse la cosa più importante, sono le piccole stelle che compongono il nostro cielo notturno e senza di loro il cielo sarebbe vuoto, giusto? Disegnare inoltre si tratta di concentrarsi, di immergersi nel momento presente, viverlo al massimo. Non importa se hai 5 ore o 5 minuti per disegnare, fallo con intenzionalità e cerca di godertelo. La fretta oltretutto rovina anche l'esperienza perché disegnare ha così tanti benefici a livello emotivo, cerebrale, fisico, che rischiamo di non riceverli questi benefici se abbiamo fretta di finire. E questi erano i 7 problemi più comuni che puoi avere quando hai da poco iniziato a disegnare o anche quando stai disegnando già da un po', ma vedrai che con un po' di attenzione pratica li potrai facilmente correggere. Ricordati che non è mai troppo tardi per iniziare a disegnare e per migliorare, un piccolo passo alla volta fa la differenza. Se ti è piaciuto questo video ti ringrazio se mi vorrai lasciare un like, iscriverti al canale e dimmi nei commenti quali di questi errori hai smesso di fare. E se stai iniziando la tua avventura nel mondo del disegno ti lascio qui la prima lezione del mio corso gratuito di disegno per principianti. Buon disegno e al prossimo video!